Senti, io ce l'ho però una barzelletta, sai, ci ho pensato. Ah sì? Eh, ce l'ho perché a un certo punto c'era questo camionista, un certo Saro Falsaperla, non so se lo conosci. Sì, ho sentito dire. Saro Falsaperla stava andando all'estero e portava angurie, no? Pottava mulone all'estero dalla Sicilia, con suo bello camion, perché aveva il suo camion personale. Basta, a un certo punto, mentre era per strada, io lo battevo da notte, no? Stava ascoltando la radio, anche perché qual è la compagnia di un camionista? La radio. Mentre che stava ascoltando la radio, si interrompono le trasmissioni e c'è una notizia flash. Attenzione, notizia flash. Vediamo che fomette che ho fotte. Cioè, è stato avvistato nei cieli della Sicilia un UFO, un oggetto volante non identificato. Quindi UFO, un identified flying object. E' come sei tecnico. Facciamo vedere che non siamo cretini e cretini, giusto? Basta, a un certo punto, questo dice, attenzione, se incontrate gli extraterrestri, fate attenzione, parlate piano, cioè, con calma, molto lentamente, perché probabilmente possono comprendere. Ehi, chiuso sai, era quello camion che stava a guadagno, era in Sicilia, ancora si doveva imbarcare a un dolceghetto, era arrivato nella zona, chissà, cioè, fra Giarre e Calatabbiano, in quel tratto di autostrada. Basta, a un certo punto, questa notizia, forse ci vi ci venere un pochettino di smottamento, ci mi devo fermare, perché non ne stai scandando. Se fermavo nella prima piazzola che incontravo, salutavo guardrail per cercare un posto, no? A un certo punto, improvvisamente, vede dietro gli alberi un flash, una luce che faceva csss, csss, csss. Mia, si avvicina a questi cespugli, ne apre uno e vede uno un'ombra, una specie di ombra, cutta, vascia, tozza, dice, meh, le extraterrestri ci sono, ci vuole che fare, amicizia, e chi non vuole che ci parla, è piano, quindi io ora ci parlo con calma, che io non mi capisci. Amico, mi chiamo Saro, Saro falsaperla, faccio il camionista e porto Moloni all'estero. Moloni, conosci Moloni? Moloni. Che niente, silenzio, quell'ombra, niente, non barrava, il flash che continuava, csss, 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 e questo ci fosse se parlare più lentamente. Amico, io amico tuo, terrestre, io Saro, Saro falsaperla, io camionista, porto camion, Moloni all'estero, Moloni, Moloni, tu come ti chiami? Che niente, silenzio, si avvicinavano all'altro poco, c'era quest'ombra sempre così cupa, no? Due flash da luce, fum, fum. Amico, io Saro, catanese, siciliano, Saro falsaperla, io camionista, io porto Moloni all'estero, Tu, come ti chiami? Che improvvisamente si alza l'ombra e dice, mi chiamo Pippo Rappicavoli, io porto caraccezze, te ne vuoi dire che sto cagando? Cosa da pazzo.